Passiamo ai pareri sull'articolo 16. Prego, onorevole Carbone. Non ci sono pareri favorevoli, Presidente. Grazie, onorevole 40 e Lombardi. Allora, andiamo. 16.2, Nuti. Favorevole. Favorevole. 16.5, Nuti. Favorevole. Favorevole. E non ce ne sono altre. Ah, sì, 16.01, che è aggiuntivo centenero. Pagina 343. Mi rimetto all'Aula. Favorevole. Bene, l'altro successivo è inadmissibile. A posto. Governo. Conforme al relatore di maggioranza. Grazie, Ministra. Allora, 16.2, Nuti. Parere contrario di Commissione-Governo. Favorevole del relatore di minoranza. È aperta la votazione. Ci siamo? Marazziti. Albanella. 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 Bocca d'Utri. Ci siamo tutti? È chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo al 16.5, Nuti. Parere contrario Commissione-Governo. Favorevole. Relatore di minoranza. È aperta la votazione. Ci siamo? Chi è che ha detto no? Marzano ha votato ora? Sì. Allora, ah, qua su. Boccuzi. 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 Boccuzi.